Sì, sì, sì dietro fine che cosa hai dietro? è accanto al principe che devi cercare di trovare la tua felicità ma un accidente hai la voce perché cavolo non la usi parlare? digli una volta per tutte che sei stata tu a salvarlo ma ci hai rinunciato pur di poter diventare umana state dicendo solamente delle sciocchezze sono stata io a salvare la vita al principe l'ho portato al mio castello, l'ho curato, l'ho imboccato con le mie stesse mani spiango perché mi piaceva di più come finiva prima scusa la vita, che cosa stai facendo? oh no oh no, devo fare qualcosa raggio, pesa di meno mamma, ti prego, fermati Doraemon presto, dammi il copter no, la docodemoporta anzi no, la macchina del tempo o un ciuschi qualsiasi che ci faccia scomparire oggi è il 15 giugno del cuggero scusa tanto se non sono veloce nobita, oggi per il tuo bene ti servirai ma la manzina coi fiocchi, caro signor Bradipo scusi, permesso non è possibile perciò dateci sotto devi essere il migliore capitano sempre tutti a noi